il cerca di seguire sempre con gli occhi la lenza questo è un alletteratino minuscolo un nitro alletteratozzo ecco la di vattene di vattene non ci riesci che ci troviamo un altro alletteratino è anche lì vuole liberare era appoggiato piccolo alletterato questo è tra quelli giochi e un ghilo a mangiare questo l'animale non è se lo tiri se lo tiri forse piano piano io però devo levare tutto quando ora fai quando parte pigliati e poi riprendi bravi bravi e poi attensionare in corso capisci un'altra che è bravi un grande bel pesco un grande bel pesco e l'altro, grazie André Piano, ora dentro sta dentro ora molto, solo di canto, quindi è più molino quindi André Piano dentro è fatto a girare, giro, andré Piano andré Piano, andré Piano non è che premura di darmela a me, ah tu a seconda luce perché appena poi ce l'ho accortata lo prendo io sembra canto, no, se ne andava no, se ne andava ha rotto ha rotto ha rotto ha rotto e va bene, va bene fa parte del gioco uno è uscito ma non c'è stato il video purtroppo non è partita la telecamera altro letterato beve libero, giusto? sempre piccolo letteratino viaggio che ha fatto non è tutto i video letterati impressione E' andato, l'ho fatto bene! Ma no, entra, entra tutta l'accella qua! Sì, se ne andava, se ne andava buona! All'olto! Micro alletterati, muovete i capelli! I peci sono arrivate le taglie seri! Questa è seri! Eh ragazzo! Che mi pare di tonno rosso! E invece sei da imbustare! Questa è proprio una gran bella sorpresa! E' l'oletteratino! Questa è lì! Questa è lì! E' l'oletteratino! Pesso! Piano piano! Pesso! 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 E' un bel ragazzo! Pesso! I'olio! Vedi! Pesso! Pesso! hai visto che già ci hai preso la mano e siamo a due di questi belli e ma e 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